Perché ha deciso di candidarsi alle primarie del centro-sinistra? Io ho deciso di candidarmi perché mi sono a un certo punto accorto che questa è una città con delle energie straordinarie, delle energie che sono spesso invisibili nei quartieri, nelle istituzioni. È una città a cui manca però una buona politica, c'è una politica capace di dare un futuro a queste energie che pur ci sono, che è capace di metterle in rete e io ho vissuto anche come professionista, come architetto da vicino alcune vicende importanti della politica di questa città e ho potuto anche, come dire, toccare con mano il livello insimo della classe politica che ci governa. Quindi insieme queste cose mi hanno fatto pensare che fare politica attraverso la professione sia una cosa importante ma che ci sono momenti nella vita in cui sia necessario fare un passo diverso. Ho fatto una scelta che per me è una scelta fortissima e molto impegnativa di affrontare in prima persona una serie di grandi questioni che riguardano il futuro di Milano. Nella corsa alla candidatura al sindaco di Milano siete in quattro. Cosa le fa pensare di essere la persona giusta? Io ho in questi anni lavorato molto su Milano, conosco molto bene la città, conosco i quartieri di Milano, conosco come si vive, conosco i problemi dei servizi, i modi con cui oggi si fa fatica a muoversi nella città, conosco strati diversi della città, ma non è solo questo che mi porta a pensare di avere una competenza forte per poter candidarmi al sindaco. La cosa più importante che sto facendo e che stiamo facendo è che noi stiamo davvero costruendo un progetto per il futuro di Milano, abbiamo delle idee molto chiare su come si possa migliorare questa città e stiamo parlando a tutti i cittadini raccontando come Milano sia una città che deve essere più aperta ai giovani, deve essere una città in grado di offrire un modo di muoversi più semplice, più facile, meno inquinante, sia una città che può davvero prendere la bandiera della grande sfida ecologica prima tra tutte le città italiane e vincerla, sia una città che deve investire sul lavoro in un modo nuovo, valorizzando questo straordinario tessuto di piccole imprese, di associazioni, di cooperazioni sociali che costituiscono una delle grandi qualità di Milano. L'apporto del PD nella sua corsa alle primarie è un problema o una risorsa? Io penso che noi dobbiamo capire bene qual è il ruolo dei partiti, oggi un grande partito come il PD è un partito in fase di grandi trasformazioni, è un partito non più univoco o con un pensiero unico, un partito dove abitano diverse anime, questo genera anche spesso un po' di confusione, un po' di non linearità nelle sue azioni. Tuttavia penso che il PD, per come l'ho conosciuto in queste settimane, sia anche una forza straordinaria, per esempio è governato a Milano da giovani trentenni che lavorano con passione gratuitamente per molti aspetti nei quartieri che ti stanno da fare in modo appassionato e con i quali mi sto trovando bene. C'è una rete di circoli che anch'essi sono stati molto importanti negli ultimi anni del tenere pezzi di società milanese che hanno cercato di reggere allo sconquasso di questa giunta che ha abbandonato la città a se stessa. Nel caso dovesse perdere le primarie cosa farà? No, io ho già detto che nel caso dovessi perdere le primarie sono disponibilissimo a dare il mio aiuto a chi vincerà, come tutti noi tre almeno avevamo detto fin dall'inizio, assolutamente. Nel cammino della città verso Expo lei ha collaborato con Letizia Moratti. Se dovesse vincere le primarie del centro-sinistra come intende impostare la campagna elettorale contro di lei? La mia campagna elettorale, come è già, è una campagna elettorale a tutto tondo, nel senso che io ho dato un giudizio negativo dell'operato di questa giunta e il fatto di aver lavorato insieme più che alla giunta e io sono stato consulente della società Expo per il progetto su Expo. Ho naturalmente conosciuto il sindaco, come ho conosciuto il presidente della regione, i dirigenti della società Expo e questa conoscenza mi ha ancora più rafforzato in un giudizio sostanzialmente negativo. Io penso che questa giunta sia una giunta che ha abbandonato a se stesso pezzi interi di città, che ha smesso di avere il polso dei quartieri. È una giunta che sulla sicurezza, sulla famiglia, sulla scuola, si è contraddetta anche nelle sue dichiarazioni di impegno. Se si pensa solo alla questione della sicurezza, la tolleranza a zero, questa è la giunta che da un lato ha predicato insieme, nelle parole del sindaco o del vice sindaco decorato, l'assoluta intolleranza verso qualsiasi forma di criminalità e che poi ha lasciato che interi quartieri di Milano siano oggi in mano alla malavita organizzata. Ora parli da sindaco, come intende affrontare la questione Ecopass? Ecopass è un buon strumento ma è stato progressivamente eroso e in qualche modo ridotto quasi a una semplice multa sull'auto inquinante, mentre invece noi avremo bisogno di uno strumento che dissuade dall'uso della macchina privata soprattutto nei confronti di quelle 700.000 macchine che ogni giorno entrano ed escono da Milano. serve un Ecopass nuovo, cioè una tassa proprio sull'utilizzo dell'automobile che venga accompagnato dal fatto di fare dei parcheggi di interscambio il più vicino possibile alle tangenziali ai quali deve arrivare un mezzo pubblico di superficie in grado di muoversi con una forte autonomia di spostamenti. Quindi sono tre cose insieme che possono aiutarci a ridurre questo volume di traffico. Poi bisogna intervenire anche nella città ridando spazio ai pedoni e alle biciclette. Questa è una città che ha distrutto la possibilità di muoversi a piedi e che cerca in qualche modo, in modo però, devo dire, assolutamente insufficiente, ridicolo di dare spazio ai ciclisti. Ma finché ci saranno migliaia di macchine sui marciapiedi in seconda fila, questa cosa non si risolverà mai. È giusto che una città come Milano non abbia una grande moschea? Credo che una città moderna deve per forza prendersi cura del grande tema del sacro e della fede e deve dare luoghi di culto adeguati e dignitosi a tutte le fedi, a tutti i fedeli. Quindi certamente il fatto che ci sia una comunità islamica di quasi 200 mila milanesi non può essere trattata come è stata trattata da questa giunta. Cioè creando sostanzialmente, anzi lasciando che si sviluppassero delle vere e proprie catacombe nei seminterrati, nei garage, nelle palestre abbandonate e non capendo che invece il modo giusto per dare visibilità e dignità al sacro è quello di dare spazi. Quindi io penso che la richiesta della comunità islamica di avere uno spazio, un grande centro per la cultura islamica, una moschea, sia lecita. I magistrati dicono che l'Expo sarà una calamita per le infiltrazioni mafiose. Che fare? Abbiamo fatto un progetto per Expo che è un progetto molto forte e radicale cioè di realizzare un grande orto botanico, un orto botanico planetario in cui in tutti i paesi del mondo vengono a coltivare un pezzo di terra e a contribuire al tema dell'alimentazione della fame producendo cibo. Questo è un progetto che ha azzerato ogni possibile investimento immobiliare, ogni possibile speculazione e che ha messo in grande difficoltà chi invece, come la classe politica di Milano, aveva promesso ai privati proprietari del terreno di avere un grande guadagno sul piano delle costruzioni possibili. Purtroppo l'ultimo accordo, quello del comodato d'uso, consente ai privati subito dopo l'Expo di distruggere l'orto botanico e di costruire un quartiere più grande della Bicocca di Milano. Quindi è una scelta veramente ferrata ed è anche una scelta illecita perché si distrugge un investimento pubblico perché comunque questo orto con le serre e con i padiglioni di coltivazione è anche un investimento importante. Quindi io sono innanzitutto sconcertato e deluso da questa scelta pessima fatta dalle amministrazioni, dalla Giunta di Milano e appoggiata dalla Regione e dalla Camera di Commercio. D'altro canto penso che proprio il fatto che non si sia voluto accogliere il nostro progetto può lasciare spazio a interessi illeciti. Su questo noi credo dobbiamo vigilare con grandissima attenzione. Sul sistema degli appalti e degli appalti pubblici, soprattutto sul rapporto tra appalti e subappalti, io penso che noi dobbiamo essere attentissimi. Ricordiamoci che la Giunta di Milano ha rifiutato di costituire una commissione antimafia e questo è un segno molto grave, molto grave. Io penso che dovremmo invece fare in modo che si costituisca subito una commissione antimafia che lavora sotto contatto con la commissione di indagine parlamentare sulla mafia. Abbiamo bisogno, sul tema della malavita organizzata, di creare anche delle reti di osservazione e di monitoraggio di quartiere. Cosa risponde alle polemiche suscitate dal fatto che lei ha lavorato anche su terreni di Ligresti? Ho lavorato per la Fondazione Cerba e per Umberto Veronesi sull'idea di un nuovo ospedale attorno all'OIEO, Istituto Europeo di Oncologia, che è oggi sui terreni del Parco Sud di proprietà di Ligresti. Ho cercato di fare quel lavoro perché l'idea di Veronesi è un'idea secondo me importante. Io sono fiero di questo progetto e trovo che alla fine questo problema un po' rancoroso di una pezzi di sinistra che invece che guardare la parte positiva continuano a basarsi su delle polemiche che sono spesso sterili, faccio un po' tristezza. Cioè io penso che noi dobbiamo anche immaginare una città che va avanti, che si sviluppa, che ha buone idee e quando queste idee sono forti sono idee che vincono anche se vengono fatte in un pezzo di un terreno di un operatore discutibile. Il problema vero è portare avanti le idee, non fermarsi su queste cose. Bisogna essere più forti e su questo io sono molto tranquillo e anche molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto e di quello che potremo fare. Lei ha anche lavorato nella progettazione degli spazi del G8 della Maddalena che poi sono finiti in mezzo allo scandalo della Cricca. Come ha fatto a non accorgersi del malaffare? L'idea di Renato Soru che mi ha chiamato come consulente a immaginare questo modo di usare il G8 per lasciare qualcosa di utile in un territorio in grande difficoltà era proprio questa. Usiamo un evento potente ma ormai inutile, il G8, per lasciare un grande segno nell'economia locale. L'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in un tempo assurdo lavorando 50 persone per un anno e mezzo non essendo pagati. Io purtroppo ho avuto un problema finanziario molto grave e scoprendo dopo che attorno a questa vicenda si erano realizzate una serie di relazioni di scambi assolutamente illegali, di favori, promesse illecite. Una cosa che mi ha profondamente demoralizzato, io era la prima volta che partecipavo a un appalto pubblico, l'ho fatto con grande passione perché credevo nell'idea di Soru e sono convinto che alla fine ce l'abbiamo fatta. Certo vedere il modo con cui vengono trattati gli appalti pubblici fa molto riflettere, bisogna assolutamente cambiare alcune regole. Io l'ho subito detto, il tema delle maggiorazioni per esempio, cioè il fatto che si dia oggi il 50% in più alle imprese che partecipano ai lavori che vengono considerati legati a condizioni di urgenza o di emergenza, ma forse c'era l'urgenza, certamente non c'era l'emergenza nel caso del G8, è del tutto sbagliato, sono imprese che guadagnano cifre assolutamente irragionevoli, quindi ci vuole un controllo fortissimo sugli appalti, sui criteri di assegnazione delle opere e ci vuole anche secondo me una presenza della politica molto più forte dal punto di vista del monitoraggio sulle diverse fasi di cantiere. Per me quella è stata un'esperienza che se vuole mi ha rafforzato nel capire quali possono essere le soluzioni per evitare che ci siano forme di illeciti negli appalti pubblici, quello che stiamo facendo a Milano sull'Expo è di proporre alcune di queste soluzioni. Una è quella di avere dei conti correnti unici per appaltatori e subappaltatori, perché poi spesso le forme di illecito nascono nella presenza del subappalto, quindi da questo punto di vista la mia sarà una vigilanza assoluta.